Grazie Presidente. Ministro, si stima che in Italia ci siano fino a 11 milioni di cittadini che rinunciano alle cure a causa delle lunghe liste d'attesa o che si impoveriscano per gli alti costi della sanità privata, fino a 40 miliardi out of pocket. È inaccettabile che chi per anni ha pagato le tasse per il sistema sanitario, il giorno che ne ha bisogno per una volta, per una visita, per un esame, per una prestazione, trovi muri o addirittura trovi l'evidenza di gravi violazioni nella gestione delle liste d'attesa. I cittadini devono aspettare mesi, se non addirittura anni, per ottenere una visita specialistica o un intervento chirurgico, con il rischio di conseguenze negative sulla salute e sulla qualità della vita. Signor Ministro, le chiediamo come intende procedere di fronte a questa grave emergenza. Non lo deve al sottoscritto, Ministro, lo deve ai cittadini italiani. La ringrazio, deputato Quartini, Ministro della Salute, Orazio Schillaci, a facoltà di rispondere. Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver posto l'attenzione su un argomento delle liste d'attesa al quale sto dedicando molto del mio impegno. Faccio presente che il Ministero della Salute, per tramite del Comando Carabinieri per la tutela della salute, effettua i monitoraggi periodici previsti dal vigente Piano Nazionale di Governo delle liste d'attesa. Nei mesi del luglio e agosto ultimo scorso è stata espletata una campagna di controlli da nord a sud del Paese, finalizzata alla verifica della gestione delle liste d'attesa per l'erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali, riconducibile a visite specialistiche ed esami diagnostici afferenti al servizio sanitario pubblico. Gli accertamenti sono stati indirizzati sulle prestazioni che riportavano maggiori tempistiche di erogazione rispetto a quelle previste da ILEA. Sono stati oggetto di verifica, la regolarità nella gestione delle agende di prenotazione per visite ed esami sanitari, compresi quelli forniti in regime di libera professione intramuraria, la corretta comunicazione dei dati agli uffici regionali e alle ASLE di riferimento, l'individuazione delle cause di criticità nelle tempistiche di erogazione delle prestazioni sanitarie e nella presenza di agende chiuse. Questo piano nazionale, adottato di intesa con la Conferenza Stato-Regioni nel febbraio del 2019, prevede il monitoraggio dei tempi di attesa, quale elemento essenziale per il più generale monitoraggio dei LEA, sia ex ante che ex post. Il piano, nello specifico, individua differenti tipologie di rilevazione. Monitoraggio ex post delle prestazioni ambulatoriali, che viene effettuato attraverso il flusso informativo, rilevando i dati relativi alla data di prenotazione e di erogazione alla classe di priorità, che consentono il calcolo di specifici indicatori relativi al numero delle prestazioni garantite entro i tempi delle classi di priorità breve e dentro i tempi di priorità differibile. Monitoraggio ex ante delle prestazioni ambulatoriali, che si effettua per le prestazioni in primo accesso relative alle classi di priorità B, D e P, e si basa su una rilevazione dei dati sui tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali, specificatamente indicate nel piano 2019-2021, effettuato attraverso una piattaforma all'interno della predetta dashboard, nel quale le regioni e le province autonome inseriscono le informazioni autocertificate relative alle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio, al numero delle prenotazioni con la relativa classe di priorità, alla percentuale di garanzia di rispetto del tempo massimo di attesa. Monitoraggio ex post dei tempi di attesa per i ricoveri programmati, che si effettuano attraverso la misurazione dell'indicatore, proporzione di prestazioni di ricovero programmato erogate nel rispetto dei tempi massimi di attesa per la classe di priorità A, rilevando il flusso delle schede di dimissioni ospedaliere, l'SDO, con le informazioni relative alla data di prenotazione, classe di priorità ricovero programmato, data di ricovero, tipo di ricovero, tipo di intervento principale o secondario. Monitoraggio delle sospensioni delle attività di erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, relative esclusivamente a casi eccezionali. Questo monitoraggio è effettuato attraverso una piattaforma all'interno della predetta dashboard e riguarda le sospensioni relative alle prestazioni appositamente indicate nel piano 19-21. Dalla panoramica che ho esposto risulta che il monitoraggio esposto delle liste di attesa avviene attraverso la rilevazione di alcune informazioni da due principali flussi già esistenti. Si sta tuttavia valutando un'evoluzione del sistema per il monitoraggio ex ante delle prestazioni specialistiche ambulatoriali all'interno dell'NSIS attraverso l'esposizione di web service come modalità di trasmissione, superando l'invio di file XML come avviene oggi, favorendo il collegamento automatico con i CUP per aumentare la tempestività di rilevazione. Ringrazio a facoltà di replicare il deputato Quartini. A lei la parola. Grazie Presidente, grazie Ministro della risposta rispetto alla quale siamo sostanzialmente e decisamente insoddisfatti. Per un motivo molto semplice. Ci ha dato notizie che conoscevamo dalla cronaca, ci ha detto le regole che conoscevamo e che sono previste dal piano nazionale di governo delle liste d'attesa. Non ha detto niente su come si intende procedere per abbatterle le liste d'attesa. Questo è il grosso problema che gli italiani vogliono. Sono insoddisfatti loro stessi. Un recente sondaggio fatto da alcune categorie di professionisti dicono che oltre il 60% dei cittadini è insoddisfatto del nostro servizio sanitario nazionale. Di recente anche il Cardinale Zuppi ha detto le stesse cose che stiamo dicendo noi rispetto al problema delle liste d'attesa. Il problema si può e si deve risolvere. È necessario investire nel servizio sanitario nazionale aumentando le risorse finanziarie. Lei stesso ha detto ci vogliono almeno 4 miliardi, ma non se ne vede traccia nelle ipotesi di legge di bilancio purtroppo. È inoltre necessario riorganizzare il sistema sanitario in modo da rendere più efficiente la gestione delle risorse e dei pazienti. In particolare è necessario aumentare il numero di medici e infermieri. Il personale sanitario è la risorsa più importante per un sistema sanitario efficiente. È necessario investire sulle tecnologie. È necessario riorganizzare i servizi territoriali. I servizi territoriali sono fondamentali per la prevenzione e la cura delle malattie. Va sottolineata la grande differenza regionale. Dobbiamo rivedere il titolo quinto della Costituzione e riportare al centro lo Stato per la gestione della sanità. Altro che autonomia differenziata. L'impressione è che navighiate a vista senza una visione, o peggio, con la visione di chi vuole privatizzare il servizio sanitario nazionale pubblico. Noi non ci stiamo. Noi vogliamo difendere il servizio sanitario nazionale, che è un bene prezioso per tutti i cittadini. È un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione che non possiamo permetterci di perdere. Ringrazio il deputato.